benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione ad amici condotto dalla celebre maria de filippi abbiamo assistito a un momento piuttosto insolito tra i coniugi francesca tocca e raimondo todaro anche se tra i due ballerini sembrava andare tutto bene oggi la coppia è in profonda crisi vediamo cos'è successo amici litigio tra tocca e raimondo tutto è iniziato con un commento di todaro riguardo una coreografia eseguita da giovanni uno dei ballerini del programma questo pezzo non lo avevo lavorato personalmente con giovanni ci eravamo focalizzati su altro praticamente lo ha fatto da solo se io sono in sala per lui posso fare la differenza una confessione che non è passata inosservata soprattutto agli occhi di umberto gaudino collega e amico di lunga data durante la trasmissione maria de filippi ha raccolto il guanto di sfida chiamando i ballerini in studio per un chiarimento umberto ha preso parola per primo ci conosciamo da una vita sai il bene che ti voglio però ci sono rimasto male semplicemente perché sai il lavoro che c'è dietro e quindi far passare il messaggio che giovanni non è arrivato pronto perché non c'eri tu todaro non si è tirato indietro interrogando sulla preparazione della coreografia a cui gaudino ha risposto affermativamente aggiungendo tuttavia quello che facciamo in sala è sempre il massimo sono solo rimasto male proprio quando il dibattito si infiammava è intervenuta francesca tocca con una richiesta di chiarimento verso il marito vorrei dire solo una cosa sono sicurissima che ti sei solo espresso male perché quello che è arrivato a noi purtroppo è questo io vorrei solo che lo confermassi la tensione è cresciuta quando la de filippi ha messo in luce il nocciolo della questione chiedendo se la presenza di todaro in sala avrebbe potuto effettivamente fare la differenza la risposta di tocca è stata tagliente non hai capito proprio niente todaro ha risposto non parlerò più amici l'inaspettato litigio tra tocca e raimondo todaro ce la vediamo a casa maria de filippi dice la sua il confronto si è concluso con un gesto di affetto da parte di todaro verso gaudino sottolineando la forte vicinanza il rispetto reciproco tocca ha lasciato un promemoria a todaro poi facciamo i conti a casa e con una risata alessandra celentano ha aggiunto sono cavoli tuoi ciao 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 Grazie a tutti.